Il primo è rimasto sospeso a lungo fra i rami ad alta quota, il secondo è finito in ospedale con una gamba rotta. Sarebbe potuto andare decisamente peggio i due quasi coetanei che oggi hanno tenuto impegnati in medici e soccorso alpino per un paio di discese con il parapendio da brividi a borso del grappa. Chiamate i grappi da successione e quattro ore di intervento. Il primo è località Sass Negri a 1200 metri di altezza. L'alerta di un cinquantotenne modenese è rimasto incastrato tra i rami degli alberi in una zona impervia e molto difficile da raggiungere. Il complicato recupero ha visto in azione due mezzi, l'elicottero dei tecnici del soccorso alpino e l'eliambulanza. L'uomo era incredibilmente illeso. Meno fortunato il cinquantotenne tedesco che subito dopo ha costretto a un nuovo intervento poco distante. Un brusco terraggio per il turista il cui errore nella fase finale del volo ha provocato una brutta caduta con frattura della gamba. E la giornata di sport e relax si è conclusa in una stanza di ospedale dopo la corsa in ambulanza.